A kiss for you Anticipazioni Victoria, Fiction Canale 5, 2 e 3 puntata, cambio programmazione Victoria Fiction Canale 5 Anticipazioni seconda e terza puntata, ecco quando vanno in onda. Da stasera debutta in prima serata su Canale 5 una nuova fiction dal titolo Victoria, che racconta la storia e lascesa al potere della regina Vittoria d'Inghilterra. . La serie in quattro puntate, per un totale di otto episodi, ha registrato un grandissimo successo di ascolti in patria e arriva in Italia dopo i buoni ascolti della serie Doventoven Abbey e Tecroven che sta spopolando su Netflix. . Riuscirà a conquistare il gradimento del pubblico di Canale 5 oppure no? Ecco nel dettaglio quello che succederà e le trame delle prossime puntate. Spoiler Victoria Fiction, ecco la programmazione su Canale 5. . Partiamo subito da quella che è la programmazione di Victoria in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni di queste ultime ore rivelano che dopo la prima puntata trasmessa di domenica sera, ecco che la fiction cambierà giorno di programmazione in tv. . Sì, perché domenica prossima 24 dicembre in prime time su Canale 5 andrà in onda il consueto concerto di Natale in Vaticano condotto da Jerry Scotti che impedirà la messa in onda della seconda puntata della fiction. . Quando andrà in onda a questo punto il secondo appuntamento con la serie TV Victoria? Le anticipazioni rivelano che gli episodi 3 e 4 sono in programma il prossimo 26 dicembre su Canale 5 mentre la terza puntata, salvo cambiamenti di palinsesti dellultimo minuto, dovrebbe andare in onda il 2 gennaio 2018. . Tuttavia i palinsesti di Canale 5 delle ultime settimane sono in continuo cambiamento e dopo lo slittamento dello show di Paolo Bonulli sal sabato sera, non si escludono ulteriori novità nel corso delle prossime settimane. . Per tenervi aggiornati sulle novità del palinsesto di Victoria cliccate sul tasto segui. Ecco cosa succederà nella seconda e terza puntata di Victoria su Canale 5. . Cosa succederà nel corso della 2 e 3 puntata di Victoria in onda su Canale 5? Le anticipazioni ufficiali sulla trama rivelano che la regina Victoria deve fare i conti con nuove pressanti minacce che arrivano dai suoi stessi familiari, i quali vogliono tenerla sotto controllo ed avere lultima parola sulle sue scelte. . 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 Grazie a tutti